Che tempo che fa, chi sono gli di domenica 30 aprile 2023, anticipazioni puntata. A distanza di una settimana dall'ultima puntata, come ogni domenica che si rispetti. L'appuntamento su Rai 3 è solo uno. Ed è quello con che tempo che fa, il talk show realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l'Officina. Che vede al timone da anni Fabio Fazio. Con lui, a partire dalle 20, le presenze fisse, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbac, Gigi Marzullo, Nimo Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli. Ma ecco tutte le anticipazioni di domenica 30 aprile, tra ospiti, interviste e pagine di attualità. Ma non finisce qui. Tra gli ospiti anche, Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologia e virologia all'Università Vita Salute San Raffaele, Franco Locatelli. Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gessù di Roma, l'economista Tito Boeri, il direttore della Repubblica Maurizio Molinari, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini. La vicedirettrice della stampa Annalisa Cuzzocrea, Michele Serra. A chiudere la serata, come sempre, che tempo che fa il tavolo con Nino Frassica. Gigi Marzullo, Simona Ventura, la signora Coriandoli. Tra gli ospiti, Simona Quadarella. Vincitrice di quattro medaglie d'oro agli ultimi campionati italiani di nuoto, nei 200. 400, 800 e 1, 500 metri stile libero, prima nuotatrice a conquistare quattro titoli nella stessa edizione dei campionati, Marina Ray. Chi ha pubblicato recentemente il disco Donna che parla in fretta, Live, Mara Maionchi, la Jalapas Band, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni. Tornano anche al tavolo Claudio Bisio e Stefano Fresi. Grazie a tutti.